Comandante, insomma adesso arrivano anche le fototrappole? Sì effettivamente arriveranno ben presto, abbiamo acquistato 5 fototrappole che arriveranno nel giro di qualche settimana e saranno installate immediatamente. Terviso è sempre più sicura perché è sempre più sorvegliata e dove non arrivano le telecamere fisse arriveranno le fototrappole per incastrare i furbetti del rifiuto. Un rafforzamento di quanto sta già facendo Contarina con un risvolto in più dedicato ai professionisti dell'abbandono, tra l'altro in crescita in questi ultimi mesi. La fototrappola nasce proprio per non essere visibile, quindi tanti scelgono dei posti dove non ci sono telecamere che sono ben visibili, le classiche telecamere di sicurezza urbana. Noi con le fototrappole andremo ad installarle dove proprio non si vedono. I furbetti del rifiuto, soprattutto i professionisti, sanno che ci sono risvolti penali, quindi saremo puntuali a denunciare anche queste persone. Perché Contarina può sanzionare solo civilmente, mentre con queste fototrappole i guai per chi viene scoperto vanno al di là della semplice multa. Tra i luoghi già selezionati, tutta l'area attorno al palazzone di Via Pisa. La zona di Via Pisa è sotto controllo ormai da almeno due mesi. Abbiamo fatto dei controlli nel grattacielo, però stiamo continuando i controlli al di fuori perché tutta l'area deve essere attenzionata. Là abbiamo problemi con i rifiuti e sicuramente le fototrappole ci daranno una grossa mano. Ma le fototrappole non serviranno solo a questo, altro fronte importante riguarda i luoghi di spaccio. Ci sono delle zone di Treviso che non sono videosorvegliate, che abbiamo già attenzionato con dei controlli, dove abbiamo trovato anche delle modiche quantità di droga. E queste fototrappole serviranno anche per queste indagini, saranno sicuramente uno strumento molto molto importante. Da qualche giorno c'è la determine, questo vuol dire che non saranno tempi biblici per la loro attivazione. Credo che per inizio del mese di settembre potremo essere già operativi.